Quindi un qualcosa, un modello, uno school kit che volendo sia di facile attuazione in tutte le scuole del nostro paese. Gli school kit che esistono già, se non lo avete già visti, vi invitiamo ad andare a vedere sul sito del ministero, si suddividono per strumenti, competenze e informazioni. Vi chiediamo gentilmente se avete uno scanner QR code, se riuscite ad andare sul sito che vi abbiamo messo, oppure se potete...